Siamo in Calabria. Quali sono i dati sui rifiuti urbani consolidati con il rapporto ISPRA 2023? Come si posiziona la raccolta differenziata? Ci sono possibilità di migliorare la percentuale? Ne abbiamo parlato con Fabio Costarella del Consorzio Nazionale Imballaggi. Il rapporto ISPRA presentato il 21 dicembre scorso sui dati del 2022 ci restituisce un dato positivo. La Calabria ha raggiunto il 54% di raccolta differenziata. Si posiziona un po' in linea con quelli che sono gli obiettivi che hanno raggiunto e superato da qualche anno le regioni del centro-sud, distanti ancora da quelle che sono le migliori performance che registrano le regioni del centro-nord, compreso la Sardegna, che storicamente hanno un processo e un ciclo industriale che valorizzano i rifiuti raccolti, compresi gli imballaggi. Se invece guardiamo in casa, la Regione Calabria ancora ha delle forti potenzialità di crescita. Se consideriamo che mancano all'appello, purtroppo, alcune grandi città come Reggio Calabria e Crotone. Anche se nell'ultimo anno, devo dire che Reggio Calabria ha aumentato la propria raccolta differenziata di 7 punti percentuali, passando dal 34 al 41%, mentre la città di Crotone segna ancora un 21% di raccolta differenziata. Buona la città di Vibo Valencia, buono anche il risultato di Catanzaro e Cosenza, anche se arretrano leggermente di qualche punto percentuale. C'è da riprendere un po' la comunicazione e il controllo del territorio e l'informazione ai cittadini. Mentre un grande contributo, non solo sulla parte imballaggi, ma complessivamente, ripeto, ce lo aspettiamo dalla città di Reggio Calabria e Crotone. Sempre l'ultimo rapporto Ispro ci restituisce un altro dato, che è meno allarmante rispetto agli anni precedenti. C'è una presenza più massiccia di impianti, in grado di poter lavorare in questa regione i rifiuti che vengono raccolti in maniera differenziata. Rimane ancora però molto da fare, non è solo un problema calabrese, è un problema di quasi tutte le regioni del centro sud che scontano questo ritardo sul deficit impiantistico. Ma ripeto, sempre meno rispetto agli anni precedenti. Il PNRR è stata una grande opportunità, devo dire che il Ministero dell'Ambiente, insieme all'Anci nazionale e all'Anci regionale, abbiamo fatto noi come Conai un lavoro straordinario. Un lavoro di squadra che ha portato a dei grandi risultati, noi abbiamo aiutato con i decreti del 2021, quindi noi sostanzialmente ci siamo concentrati sulla misura 1.1, quello per il miglioramento e la meccanizzazione della rete della raccolta differenziata. Abbiamo supportato, grazie a questo lavoro di squadra, 190 comuni. Di questi 190 comuni, 65 sono stati ammessi a finanziamento, anche se 155 erano stati ammessi a gradatoria, ma non sono stati finanziati per mancanza di fondi. Quindi devo dire che sicuramente il PNRR è stata una grande operazione, ci aspettiamo tanto da questi interventi per il miglioramento della raccolta differenziata, non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo. E visto che eravamo in Calabria nel periodo delle feste natalizie, siamo andati a scovare una simpatica iniziativa. In provincia di Catanzaro, a Castiglione Marittimo, frazione di Falerna, un albero di Natale completamente formato da bottiglie di plastica pronte al riciclo. Questa idea di costruire quest'albero è venuta da un gruppo di persone residenti nel nostro comune. Abbiamo usato e impiegato quasi 9.000 bottiglie, sono state tagliate queste bottiglie e poi ogni 2-3 bottiglie abbiamo fatto dei fiori. Le bottiglie ci siamo aiutati con i gruppi WhatsApp di ciascuno di noi, in termine di 15-20 giorni siamo stati invasi di bottiglie di plastica. Da tutto ciò sono nate le nostre serate. Dopo due mesi e mezzo è arrivato il completamento dell'albero.